Negli stessi giorni in cui il Regno Unito decideva di consegnare Julian Assange agli Stati Uniti, la Germania lanciava un'altra offensiva contro la libertà di espressione, prendendo di mira Alina Lipp, giornalista indipendente che da mesi documenta quanto avviene nel Donbass. Attraverso Telegram e altri canali digitali, la reporter tedesca è diventata uno dei volti più noti della controinformazione occidentale da quando è iniziata l'operazione militare russa in Ucraina. Un lavoro che però non sembra essere piaciuto al governo tedesco, che secondo la giornalista avrebbe aperto contro di lei un procedimento penale per cui potrebbe rischiare fino a tre anni di carcere. Vivo a Donetsk da sei mesi e sto raccontando ai miei concittadini cosa sta succedendo da queste parti. Questo è il motivo per cui le autorità tedesche hanno iniziato a perseguitarmi. Questa è la spiegazione fornita da Lipp in un video nel quale dichiara che il governo del suo paese avrebbe congelato non solo i suoi conti bancari ma anche quelli di suo padre. Una decisione simile a quella presa qualche mese fa dall'esecutivo canadese per fermare le manifestazioni dei camionisti che protestavano contro gli obblighi vaccinali. Nel video la giornalista mostra la lettera ricevuta dalla Germania in cui viene messa al corrente della sua situazione. Dal resoconto sembrerebbe che a non andare giù al governo tedesco sarebbero state le sue denunce contro le offensive del governo ucraino in Donbass, definite da lei stessa come un vero e proprio genocidio. Per la Germania il sostegno all'operazione militare russa è già un atto criminale di per sé, ha sottolineato Lipp, che si sente perseguitata per aver semplicemente svolto il suo lavoro di reporter sul campo. Buona parte del materiale da lei pubblicato su internet è infatti già stato rimosso, reo di contraddire la narrazione guerra fondaia che ogni giorno va in onda a reti unificate in tutto l'occidente. Una narrazione a senso unico in cui non c'è più spazio per i sé e per i ma, come dimostra il fatto che la giornalista non sarà nemmeno ascoltata dagli inquirenti tedeschi, che almeno per il momento non sono assolutamente interessati a sentire la sua versione dei fatti.